Buonasera ragazzi, di seconda all'altra election stasera da Misano. Ora ho acceso la voce un po' di più, si vedo la stanza, però dormono tutti, devo fare piano. Questa volta è il seguito di Top Gun, dopo un sacco di anni ritorna finalmente Top Gun, Top Gun Maverick con Tom Cruise, che sembra sempre più giovane. Siete pronti ragazzi? 3, 2, 1, Andiamo, andiamo. Skydance, il Blue Car, Paramount. 30 anni e più di servizio, medaglia al valore, Encomi, unico uomo ad aver abbattuto 3 aerei nemici degli ultimi 40 anni. Eppure non ti promuovono, non vai in pensione, nonostante tutti i tuoi sforzi, ti rifiuti di morire. Dovresti essere almeno a Miraggio a due stelle ormai, e invece è un capitano di fregata. Ma come mai? Sono i misteri della vita, signore. Un cuore. Tutto l'ardo chiuso. Grande musica. Un cuore. Un cuore. Un cuore. Un cuore. Un cuore. mi sembra un po' di arrangiata la musica 2020 ma un sequel che speriamo non rovini l'originale notare queste luci che ho in faccia sono di Magic Mike e film che c'è in tv che mi riprende la faccia e speriamo non rovini l'originale perché rimane comunque un capolavoro questo è quello per tutti questi anni, è un rischio però il trailer per adesso sembra bello Tom Cruise sembra sempre se stesso in tutti i film che fa vediamo cosa ci tirano fuori, sto cercando di capire chi è il regista ma non sono ancora riuscito a capirlo chi sia il regista di questo film, ora aspetta un attimo che provo a andare a cercarlo non lo so, non so ancora che ci registro, comunque mi informo però scrivo sotto nei commenti ci vediamo al prossimo video, vi saluto da Misano, buonanotte, tra pochi giorni torno a casa intanto ci siamo beccati queste due lavitore reaction, ora arriveranno anche altre lavitore perché a San Diego Comic non c'è un sacco di carne al fuoco buonanotte ragazzi da Misano, ciao e l'è orgo e l'è orgo e l'è orgo e l'è orgo e l'è ogo Grazie a tutti.